Nel percorso di crescita e sviluppo dell'emittente Prima TV Canale 17 per tutti i telespettatori della campagna, l'editore Angelo Antonio D'Agostino, di concerto con la direzione gestionale Parinsesti, ha deciso di attivare dal mese di ottobre importanti spazi dedicati alla cinematografia d'autore. Un primo punto netto in attesa dell'avvio della stagione televisiva autunno-inverno che vedrà succedersi grandissimi successi del cinema nazionale ed internazionale con gli attori più amati e seguiti. Da Giancarlo Giannini a Sofia Loren per il cinema italiano a Mickey Rourke, Juliette Lewis per quello hollywoodiano, dai thriller ai drammatici passando per le commedie grandi romantici. Pronti via e già nel primo weekend di ottobre due film imperdibili dal taglio differente ma impegnati, appassionati ed avvincenti. Un angelo all'inferno questa sera, sabato 1 ottobre ore 21 su Prima TV Canale 17 La vita dell'adolescente Martina viene scombussolata dalla scoperta dell'adulterio del padre Pietro che divorzia dalla moglie e si risposa. Trascurata dalla nuova famiglia, la ragazza cade nella spirale della droga. Il mio giorno, domenica 2 ottobre ore 21 su Prima TV Canale 17, un uomo di 72 anni decide di farla finita e di dare una festa per il suo ultimo giorno di vita. I parenti e gli amici cercano in qualche modo di dissuaderlo ma la conoscenza di una donna di 50 anni che lavora in un'impresa di pompe funebre e decide di assecondare i suoi desideri porterà un po' di scompiglio in questa serie di situazioni paradossali. A noi non resta che augurarvi buona visione e buon weekend su Prima TV Canale 17 in Campania.